Buongiorno a tutti, grazie. Io fanno un po' controcorrente e chiederei a tutti di mettere via i cellulari e di concentrarci su questo momento. Ma capisco anche l'esigenza di comunicazione, quindi poi teniamo l'equilibrio. E ringrazio anche i precedenti speaker, soprattutto quello che è stato prima di me, perché mi ha dato un bel assist e vi renderete conto, spero, vi lascio questa sfida, di come quello che sto per dirvi sia collegato sicuramente ai primi due speech e spero anche a tutti gli altri. Allora tutto è cominciato facendo il coach, anzi molto prima è sempre stato dentro di me come lo è in tutti noi. Ma facendo il coach l'ho iniziato a comprendere, di cosa sto parlando? Sto parlando di trovare il nostro scopo nella vita, quella che per i più moderni e innovatori si chiama appunto purpose, ma che per tutti da sempre ha un nome che dovremmo riportare nella nostra vita, immagino per tutti laica. La vocazione, la nostra chiamata. La vocazione è quello che siamo destinati a fare, anche se oggi scopriremo che il fare è solo una naturale conseguenza dell'essere e nell'essere non c'è nessuno scopo. La vocazione è quello che ci viene naturale, ma questo non significa che la strada sia in discesa e senza ostacoli. Il nostro scopo nella vita, cominciamo con tre messaggi. Non c'è nessuno scopo nella vita, al di là di vivere. Messaggio numero due, il nostro vero scopo è quello di realizzare la vita come esistenza eterna. Tre, questa esistenza eterna è puro amore e noi possiamo vivere di questo puro amore. Questo messaggio che ho articolato in tre punti è in realtà solo uno, e uno qui lo dico con caratteri e cuore maiuscoli perché mi riferisco a quell'uno, al quale oggi non diamo nessun nome, ma che per chi lo vede è amore, infinito, energia, coscienza, quella coscienza che muove tutto, che è in tutto, che contiene tutto e che nulla può contenere. E prima di andare avanti vorrei fare una premessa. Oggi non sono su un palco, non vi sto insegnando niente, sono anch'io nel mio cammino, nel mio viaggio e ogni persona ha la propria storia, ogni storia ha la sua soluzione e tutte meritano il nostro rispetto, compassione e comprensione. Ripartiamo dal coaching. Anche se oggi siamo tutti un po' coach, chi lo fa veramente per professione è bravo ad aiutare gli altri nel fare chiarezza sul come raggiungere i propri obiettivi, in modo che ognuno capisca come arrivarci. Infatti a me non piace dire che un coach ti fa raggiungere gli obiettivi, preferisco dire che ti aiuta ad auto eliminare quei condizionamenti che ti impediscono di vedere. Attenzione su questo, di vedere cosa? Di vedere se quello che vogliamo è quello di cui abbiamo veramente bisogno. Perché quello che vogliamo spesso è frutto di illusioni, mentre quello di cui abbiamo bisogno è molto più vicino alla nostra vera natura, a quello che siamo. E noi siamo questo uno, questo amore, questo amore che sostiene tutto e che non ha bisogno di nulla per sostenersi. E se vi sembra una sciocchezza è perché tutti noi in modo automatico pensiamo all'amore terreno che è fatto di mente, di ormoni, di attrazione. A volte è fatto anche di aspettative e di odio. Tra questi due amori c'è un collegamento che fra poco vedremo, ovviamente, ma qui stiamo parlando di un'altra sostanza. E allora come facciamo a scoprire chi siamo, questo uno, questo amore, quello di cui abbiamo veramente bisogno? Come facciamo a mettere al primo posto chi siamo per goderci la vita, invece di goderci la vita per scoprire chi siamo? I modi sono tanti. Chi di voi non ha mai fatto un corso di meditazione, stile di vita o nell'ambito lavorativo magari leadership e crescita personale? Se vi va alzate la mano. Tantissimi immagino. Ok, adesso vediamo quanti rimangono con la mano alzata. Chi di voi poi, in realtà non l'avete alzata in tanti, ma l'ospice è così. Chi di voi poi riesce a mantenere questo stato esistenziale, questa consapevolezza come stato esistenziale, in ogni momento della giornata? Ok, molti meno. Tutti questi insegnamenti sono fantastici. I miei preferiti sono lo stile di vita e la meditazione. Ma c'è un grande ma. Non tutto funziona per tutti allo stesso modo perché in noi, a livello del nostro sistema nervoso, c'è stampato un sottile ma potente messaggio che ci fa percepire la vita e la sicurezza della nostra vita in un determinato modo. Persino la meditazione, che è il metodo universale riconosciuto per scoprire questo amore, il nostro sé, non è praticata da tutti allo stesso modo. Riassumendo, noi percepiamo il mondo attraverso i sensi. Questi sensi creano in noi delle risposte o delle reazioni chimiche, fisiologiche, ormonali di vario tipo. Questo crea in noi le emozioni. Le emozioni hanno una base chimica. Questo crea il modo in cui pensiamo, quello che vogliamo, quello che desideriamo e molto di quello che facciamo. Questo crea spesso, quasi sempre, la nostra identità. E la maggior parte di noi passerà il proprio tempo a cercare di cambiare il mondo fuori. E tutta questa cosa è molto simpatica perché ha a che fare con il passato. E mi riferisco, per chi le vede, per chi ci crede, le vite passate. Ma per tutti può valere questo. Alla nostra memoria da quando siamo bambini, al nostro apprendimento, ma soprattutto all'apprendimento del nostro sistema, della vita, dell'evoluzione in sei milioni di anni, perché noi manteniamo quei caratteri di risposta, di reazione, di difesa, di sopravvivenza, di evoluzione che la vita ha da sempre. Una vita naturale. E allora vi chiedo, come facciamo ovunque, in tutti i canali di comunicazione a dirci che dobbiamo vivere nel presente quando la maggior parte, non so quantificare quanti, non voglio sparare numeri a caso, lo stabilite voi, ognuno per sé, se la maggior parte delle nostre azioni sono un frutto, una conseguenza del passato. Come facciamo a sapere chi siamo, se la nostra identità è stata costruita in risposta al mondo fuori? Come facciamo a sapere quello di cui abbiamo bisogno? Se queste reazioni, queste risposte a volte sono più veloci o indipendenti dalla nostra ragione, la nostra ragione che è quella possibilità in più che abbiamo rispetto agli altri esseri viventi. La spiritualità, anche se purtroppo non da queste parti, ci insegna una cosa importantissima, che il nostro sistema nervoso non è fatto per dirci chi siamo, ma è fatto per dirci come stiamo. Come stiamo e chi siamo sono due cose diverse, ma collegate. Se evolviamo il come stiamo, arriviamo a scoprire il chi siamo, questo uno, questa vita, questo amore. Ma il confondere nella nostra quotidianità il chi siamo con il come stiamo è quello che ci ha portato, che ci porta a fare degli errori. Ed è per questo che Yogananda, un grandissimo Yogi, un grandissimo santo, spero che lo conosciate, diceva che la vera religione è il nostro sistema nervoso. Allora vi chiedo, ma se tutto questo meccanismo sembra portarci fuori lontano da chi siamo, è forse sbagliato? No. Il punto è che noi da sempre abbiamo iniziato a confondere le esperienze che per loro natura nascono, si trasformano e muoiono con la vita che è esistente, eterna e puro amore. In ogni momento il nostro sistema cerca connessione, cerca questo amore. Fateci caso, magari sta succedendo a voi anche adesso. Io lo noto quando sono in un locale dove ci sono tanti giovani e tanti adolescenti. In ogni momento il nostro sguardo sta cercando qualcosa fuori, quando non lo trova fuori lo cerca nel cellulare. Perché? Perché non è abituato a cercare la risposta dentro. Se noi cerchiamo il nostro scopo nella vita fuori, che siano oggetti, lavoro, relazioni, non lo troveremo mai, perché queste cose sono esperienze che nascono, si trasformano, cambiano, muoiono. Io tra pochissimi giorni diventerò papà e quindi mi rendo conto del peso di quello che sto dicendo. Quando lo provavo a casa mi scendevano anche le lacrime. Perché noi non possiamo trovare il nostro scopo nella vita, neanche nelle altre persone. Ma allora dov'è che c'è questo amore? L'amore è nel supportare le altre persone, nel supportarci a vicenda, nell'esprimere questo scopo. Ognuno di noi lo può fare. Nell'esprimere e scoprire quello che siamo, questa eternità, questo amore, questa divinità. E l'amore allora in questo che cos'è? L'amore è una cornice nella quale tutto questo può emergere. L'amore è quello strumento che ci insegna a rispondere alla vita. L'amore è quell'energia, quella batteria infinita che ci aiuta a trasformare il come stiamo in chi siamo per rendere tutto uno. Per fare quello che oggi chiamiamo biohacking. Perché in ogni esperienza c'è il messaggio dell'esistenza, in ogni domanda c'è già la risposta, in ognuno di noi c'è questo seme di questo uno, di questo amore che aspetta di fiorire. E in tutto questo non c'è niente di individuale. Perché come dicono tutte le fedi, le spiritualità, le filosofie del mondo, ogni nostra azione, ogni nostro desiderio, tutto dovrebbe essere rivolto a servire questo uno, a servire questo amore. Perché in realtà stiamo esprimendo e scoprendo quello che siamo. E in questo la nostra individualità, qui ci colleghiamo al discorso del talento, la nostra individualità, dove la lasciamo? Tutto il nostro sistema, dove lo lasciamo? E di nuovo c'è qualcosa che non va? No! Perché grazie alla nostra individualità che ognuno di noi può fare, può dare il proprio contributo perché tutti assieme arriviamo a questo, possiamo arrivare a questo scopo. Perché solamente accettando, e qui uso, prima ho usato la parola presente, no? Che oggi usiamo tutti, accettazione anche oggi la usiamo tutti, però ci sta un po' sulle scatole, no? Cosa vuol dire accettare? Una delle risposte è se noi impariamo ad accettare l'impermanenza delle esperienze. Ci possiamo rendere conto del dono più grande che ci è stato fatto, questo dono eterno che è la vita. E questo è il nostro unico scopo. E se trovate qualcosa di più limitless di questo, fatemelo sapere. Adesso, fermi, fermi, se vi va, non so se me lo merito l'applauso, ma mi è venuta questa idea. Invece, siccome dobbiamo rispettare i tempi, invece di usare i 30 secondi per l'applauso, se vi va, io me ne vado in silenzio, voi chiudete gli occhi, mettete le mani giunte, questa posizione si chiama Namaskaram, è una tradizione dello yoga, qui la facciamo in pochi secondi, mettete le mani sul cuore, chiudete gli occhi e provate a sentire come quello che batte dentro ognuno di voi è esattamente la stessa cosa per tutti. Vi ringrazio.